Buone feste, auguro a tutti voi di passare in serenità queste giornate, con la prudenza che in questo momento particolare ci è richiesta. Voglio ringraziare personalmente e a nome di tutto il Servizio Nazionale della Protezione Civile, tutti coloro che in questo anno così difficile hanno lavorato senza risparmiarsi, per fronteggiare un'emergenza che non ha precedenti. Gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e il mondo della ricerca scientifica, le strutture operative e tutto il volontariato di protezione civile, ognuno ha fatto la sua parte e molto di più con coraggio e senso di responsabilità, una prova straordinaria di unità e coesione che non dimenticheremo. L'emergenza non è conclusa, l'attenzione resta alta, ma ancora una volta possiamo dire che gli uomini e le donne che compongono il Servizio Nazionale della Protezione Civile sono una risorsa preziosa su cui il Paese sa di poter contare. Ancora auguri a tutti e in particolare a chi, anche durante le feste, sarà in servizio perché la protezione civile è sempre al servizio della collettività. Auguri!